personale, quel consiglio sul meglio che non si cambia. Mi ha spinto a candidarmi la voglia di non correre il rischio di regalare una vittoria a Renzi né ai qualunquisti del Movimento 5 Stelle. Tutti i sondaggi di questi ultimi giorni ci davano un po' non esattamente tra i vincenti e quindi io ho sempre detto che la mia candidatura era una razza estrema, se non fossimo stati in grado di trovare un candidato che potesse effettivamente essere competitivo, faccio oggi la scelta d'amore di mettermi in ballo io non avendo noi trovato soluzioni migliori perché penso che la posta in gioco sia una posta in gioco molto alta per il futuro di Roma ma anche dell'Italia. Ma conoscendo Berlusconi secondo lei riuscirà a convincere adesso ad esistere?